Allora questo breve video mi servirà per ricordarvi quali sono le operazioni preliminari da compiere appunto prima pre prima di utilizzare il computer. Allora voi ricordate quello che vi ho detto a scuola no? Il discorso di avere ben chiaro dove andate a salvare i vostri documenti. Questo è importante perché logicamente se voi sapete dove li avete salvati li trovate e li ritrovate molto facilmente no? Ricordate il discorso dell'armadio e dei cassetti no? Che vi ho fatto. Quindi la prima cosa da fare è creare una cartella personale perché chiaramente il computer che avete a casa è usato anche da altre persone quindi anche loro avranno dei documenti da salvare no? E quindi è molto importante creare una cartella che sarà solo vostra ok? Quindi nella cartella documenti che è di default sul computer la aprite con un doppio clic e andate ad inserire una nuova cartella. Nel mio caso la cartella dei documenti è vuota voi avrete già sicuramente un elenco di documenti presenti ok? Voi però dovete crearvi la vostra di cartella quindi le procedure sono due o cliccate su nuova cartella se la trovate appunto nella vostra schermata oppure con il tasto destro nuovo cartella ok? E appunto vi sarà creata una cartella che dovrete nominare. Ovviamente non lasciate scritto nuova cartella perché altrimenti poi all'interno di tutto quello che c'è voi trovate questa questa icona ma non sapete che cosa c'è dentro ok? Quindi nuova cartella prima di fare clic quando è selezionata selezionato il nome potete direttamente scrivere al computer il vostro nome insomma il nome della cartella ovviamente io la chiamerò babi. Allora si clicca fuori e la cartella è pronta. Allora a questo punto io direi di aprire la cartella babi e andare a creare un ulteriore sottocartella perché chiaramente avrete diverse cose che salverete nella no in questa cartella con il vostro nome. Quindi dal momento che per esempio adesso andremo a lavorare su moodle ok? Si potrebbe creare una nuova cartella chiamata moodle nella quale voi andrete a salvare i compiti diciamo così che io vi darò su moodle ok? Che poi dovrete ricaricare su questa piattaforma ok? Quindi ricordatevi il percorso per andare a salvare i documenti qua è ce l'avete anche qua scritto queste si chiamano briciole. Ovviamente avete questa cartella quindi documenti babi moodle quindi ognuno di voi avrà documenti che ne so pippo moodle ok? Ciao 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 ciao